Il sito Wikileaks chiuderà i battenti alla fine di quest'anno. Mancano fondi per mantenerlo in vita, conseguenza del boicottaggio messo in atto dall'anno scorso da banche e servizi di trasferimento di fondi online. Il boicottaggio è costato all'organizzazione decine di milioni di dollari in donazioni mancate, ha detto Julian Assange, in un momento di costi crescenti a causa di accordi editoriali in più di 50 paesi, con oltre 90 tra media e organizzazioni umanitarie. Le nostre scarse risorse debbono ora essere utilizzate per combattere questo boicottaggio finanziario illegale. Alcuni servizi bancari hanno interrotto il trasferimento di fondi a Wikileaks dopo che l'organizzazione è diventata la bestia nera del governo americano, pubblicando dapprima rapporti riservati sulle guerre in Afghanistan e Iraq e poi centinaia di migliaia di dispacci diplomatici segreti.